Sei un uomo di bassa estrazione sociale? O per meglio dire una sorta di delinquente dei bassi fondi, ignorante come una mattonella di cotto, putrido e maleodorante come una carogna, con i tipici tratti somatici ingentiviti dalle conoscenze fatte a Re Bibbia? Bene, a parte i due ergastoli che ti sei fatto e la moglie ritardata e ubriacona, la vita non ti ha offerto un granché. Conti soltanto su tuo figlio. Vuoi dargli un'adeguata istruzione? Sì, ma non sai come. No, ecco per te, disgustoso avanzo di galera, la mannaia dal cielo. L'Istituto Parificato Bifolcu è da 70 anni la migliore preparazione per lavori umili, manuali, indecenti. Soltanto così potrai capire se la tua vita è uno schifo terrificante. Da noi potrai trovare scuola di taglio e cucito, per quella da penare di tua figlia, arti pasticcere, scuola di pulizia nei rami, gabinetti e androni, con brevetti nei rami scale e sottoscale, trasporto blocchi di cemento armato, scaricatori di porci, e inoltre, rilascio patenti per motori truccati, ave cross, fiorini, camion con rimorchio, trattori, betoniere, carriole e compattatori. E per i più meritevoli, un fantastico premio. Un corso del cannibalismo in una deliziosa località dell'ingioterra africano. Sburumdi. Dove la fame si taglia col coltello. L'istituto parificato bifolco. Allucinante. Se sei una bestia, dimostra... Bravo, A-E-I-O-U